Oggi le Gallerie degli Uffizi mettono online sul proprio sito web questo enorme tesoro che sono gli 88 disegni di Federico Zuccheri alla Comedia di Dante Alighieri. Questi disegni che non sono stati visti da molte persone sono stati esposti solo in parte e solo due volte nella grande festa nazionale a Firenze nel 1865 che celebrava Dante come festa dell'unità italiana e una selezione in Abruzzo nel 1993. Adesso invece a qualsiasi ora del giorno e della notte sono disponibili a tutti quanti attraverso il sito web degli Uffizi e con un commento scientifico. Chiunque voglia durante questo 2021 studiare la Comedia di Dante con questi disegni straordinari oppure condurre delle ricerche oppure chi semplicemente volesse seguire la strada della virtute e canoscenza.